Buonasera, che bello vederti, grazie, grazie, buonasera a tutti, grazie, perci abbracciare. Ciao Cristiano, bene, grazie, felice di vedere. Per prima cosa quella foto lì la trovo terribile, non so chi l'ha messa quella foto ma sono molto più bello. Chiedo scusa, chiedo scusa, questa foto la togliamo subito e la sostituiamo immediatamente. Ecco, con Cristiano Malgioglio soltanto. Come state, bene? No, io scherzavo comunque, buonasera, anche a voi, grazie, grazie per avermi ospitato, mi ringrazio davvero. Ma grazie a te Cristiano. Ok, sono tutto tuo adesso, fammi le domande più scomode che voi, adesso mi sto abbassando con l'età io ragazzi. Sì, posso? Perché quando si inveccia una si abbassa, no? Siediti, prova a sederti che... Non mi bucarai mica... Ecco, così va bene, un po' troppo basso. Eh, sono troppo baby così tesoro. Regoliamolo, regoliamolo su, vedete cosa si fa per la regina? Ecco. Ok, adesso è tutto bene, grazie. Come si è elegante. Anch'io mi abbassi un po'. Mi piace molto questo taglio di capelli tuoi, lo sai? Un po' la odri un po'. Molto bello, molto bello. Sempre Cameron Diaz. Aspetta che Cameron aveva la leccata di... Perché su, beh, no, perché faceva... Sì, cambiamo argomento. Oh mamma mia. Si mette subito male con Malgioglio. Complimenti per come sei vestito, ma i tuoi outfit ormai fanno scuola in televisione. Ma sai perché ho messo il cappello? No. Perché sono già quasi senza capelli, col ciuffo. No, veramente? No, scherzo. Scherzo, no, volevo mettermi il cappello. Lo uso poche volte. Lo uso poche volte e così, dico, voglio essere tipo quelle signore inglesi di una volta che vanno a prendere il tè alle 17 a Londra, no? Ma se io venissi a trovarti a casa ti troverai vestito così? No, mi troverai vestito tipo normalissimo, scalzo. Scalzo, vestito normale, normale. Quindi non come ti abbiamo visto in Mi casa e stu casa? Ma sì, così. Simile? Lo spirito è sempre quello, lo spirito è sempre quello. Allora, ripassiamo un po', andiamo a vedere che cosa è successo, abbiamo preso qualche momento indimenticabile delle tue interviste. Ecco, che fra l'altro mi fa molto piacere perché questo, per me, questo programma è stato una grande gioia, una grande gioia perché ho avuto la possibilità di intervistare alla mia maniera e di avere gli amici miei più grandi, che poi ce ne sono tanti, ci sei anche tu, che avrei voluto magari, boh, non lo so, se io rifarò ancora questo programma, speriamo che... Ma noi ce l'auguriamo tutti, perché non possiamo perderci momenti come questi. No, ma la cosa molto bella è perché ci sono dei personaggi tipo Chiambretti, che non va da nessunissima parte, Pieraccioni, Eder Parisi, ho avuto la possibilità di avere mia sorella, che è la quale non va veramente da nessuna parte, perché già fa un programma di grande successo, ed avere avuto anche Mara Veniere per me è stata una gioia immensa. E poi ho voluto intervistare Ilona Staller, ma sai perché ho voluto intervistare Ilona Staller? Me lo dici dopo il filmato. Ah, perché c'è... Ah, scusami. Sì, 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 me lo dici dopo il filmato. Ok, amore. Io ho 58 anni, la prostata come va? Ah, ti scrivono! Non l'avevo visto! Ti scrivono cosa devi dire! Ma amore, no! Ma no, guardate! Infatti io dicevo, è bravissimo! Sta andando! Come un treno! Guarda com'è bravissimo! Ma tu ti aggiungo ogni tre anni? Ma siccome tu poi basta! Vita dal regista! Com'è? Ciampa, non sale di niente. Assaggialo? No, non mi piace l'ho fatto. Poi la banana la mangi dopo, la puoi mangiare adesso? La banana? No, ma non può. La faccio a scuola, ce la mangiamo, ma c'è qui ne frega, vieni. Beh, che devi fare adesso, Cristiano? Tu sei anche uno dei pochi che ha sempre riconosciuto il piccolissimo aiuto che io ti ho dato per rilanciarti. Tu sei riuscito a cambiare la mia pelle. Mi ha fatto fare completamente di tutto. Eda? Ma sei ancora qui? No, Sam! Sam Raider! A me mi piace molto la seppia. Non si dice a me mi piace. Come si dice? A me piace? A me piace o mi piace? Hai ragione, tesoro. Non ti ho offeso. No, non mi ho offeso, mi hai ucciso. L'amicizia ci permette di dire tutto quando ci vogliamo bene. Però sono molto colpita da Pieraccioni, proprio non te ne ho andate a dire. Ha detto che tu vuoi parlare solo di te stesso e del tuo fidanzato turco. Beh, io no. Quello che ti volevo dire, perché naturalmente adesso c'è Fabio che si arrabbia, e quando... Beh, io ho letto delle critiche, naturalmente. Io adoro i critici in generale, perché quando ti dicono delle cose, ti danno delle giuste direzioni. E bisogna anche ascoltarli. Dici dove sto sbagliando io, dove non sto sbagliando. Mi piacciono i critici quelli... Costruttivi, certo. I critici costruttivi, ma anche la critica che non sia costruttiva. Quello non è un problema. Ecco, il mio egocentrismo, io sono così a casa. Chi mi conosce sono così. Se io ho la possibilità, durante la mia carriera, questa mia lunga carriera, è che io ho conosciuto il mondo di persone, se tu vieni a casa mia e noi parliamo, che ne so, non so, parliamo di Sofia Loren, allora tu dici, sai, Cristiano, io con Sofia, eccetera, e dico, ma che meraviglia, tu pensa che quando io l'ho vista sono svenuto fra le sue braccia, che donna meravigliosa, è stato qualcosa di incredibile, e ti racconto magari qualcosa di Sofia, eccetera. E come se io mi intervistassi da solo. Questo programma... L'ha detto lui. Ecco, è vero. Questo, vi dico un'altra cosa. E questo programma era un'eredità, è un'eredità comunque in modo diverso, ma è lo stesso format di quello che faceva la grande Raffaella Carrà. Raffaella Carrà prendeva, si raccontava anche lei come se si intervistasse. Se voi andate a leggere quello che scrivevano su Raffaella, è qualcosa che a me mi faceva a volte anche male. Perciò quello che hanno detto, eccetera, forse è vero, forse io c'ho questa cosa. Critici fare i critici, no? No, ma è bellissimo. Ma poi l'idea è che io ho voluto cantare un brano proprio, che ho voluto dedicare a un critico che io amo, anche se a volte ha parlato male di me, ma avere una critica anche di Aldo Grasso, io che gli dedico la canzone Grasso che cola, lui è molto ironico, e dico adesso arriva Aldo Grasso che ci fa il mazzo. Ma è bello, perché l'idea... Mi piaceva molto dedicargli una canzone, hai capito? Cosa c'è? Ho detto qualcosa che non va? No, no, a me piace ascoltarti, e va bene che tu vada dove ti pare. Solo che io ti devo riportare un po' sull'attualità, perché ieri è uscita questa intervista, una bella intervista per il messaggero, dove tu hai dichiarato mi sposo prima dell'Eurovision, e come testimone voglio Fiorello. Quindi lo stai pianificando questo matrimonio, cioè ti stai già portando avanti anche quegli inviti, significa che questo matrimonio ci sarà. Ti sei già separato? Comunque, ad oggi c'è un problema, che Fiorello sicuramente non verrà, perché se dovesse sposarmi mi sposa a Sideni, perciò Fiorello scordiamo, se non viene Fiorello a fare da testimone, il matrimonio purtroppo non sta da fare, figlia mia. Ah, quindi già smentiamo questa intervista? No, 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 non la smentiamo, generalmente io non amo parlare della mia vita privata, tu lo sai. No, però tu hai parlato molto del tuo fidanzato turco ultimamente, io voglio sapere tutto di questo fidanzato. Ma i fidanzati sono, anche tu sei una mia fidanzata, cosa vuol dire? Perché io amo le persone, quando io amo le persone sono tutti i miei fidanzati. Non mi aspettavo che tu lo dicessi davanti a tutti, Cristiano. Eh, ma è vero, è vero, è vero, perché io sono così diretto, sono così diretto, magari se tu hai un amico talmente straordinario, che non lo so, che ti fa una carezza sui capelli, è come se te la facessi, è come se io avesse avuto una grande storia d'amore, questo sono io. Non voglio andare oltre, comunque. Tu sei molto passionale. Io sono un toro, sono un toro che ama il suo lavoro, un toro molto tosto, sono molto debole, sono molto timido, non pensare che io adesso sono qui con te e mi sento così forte. Mentre parlo con te, è una timidezza incredibile, perché da casa mi stanno guardando in tanti, ci stanno guardando in tanti, e io quando devo parlare, devo sempre misurare le parole, perché poi io non conosco la volgarità e forse il mio successo è dovuto anche a questo, Francesca. È vero, è per questo che sei molto, molto, molto amato. Sono sempre molto rispetto per il pubblico. Io prima di entrare, prima di entrare anche qui, mi faccio sempre il segno della croce, in qualsiasi posto vado, quando vado in televisione, che voglio entrare in punta di piedi, poi c'è il malgioglio così, molto ironico, molto divertente, e che la parte è la parte mia migliore. Poi c'è la parte dell'artista. Allora io adesso parlo al Cristiano Malgioglio, allegro, divertente, ironico, perché a proposito di mi casa e stu casa, mi piace pensare, no, che in un giorno qualunque, quando tu sei appunto scalzo in casa, vestito così, come ti pare a te, senza stare a pensare troppo al look, proprio tu che invece ci tieni molto, suonano alla porta, citofonano. Sì. Naturalmente prima vai a vedere dallo spioncino di chi si tratta. No, io, no, no. No? No, sai che cosa succede? Perché io ho un suono particolare, i miei amici devono suonare in una certa maniera, perché se non suonano in una certa maniera, non ti dico il tocco. Ah, c'hai la password per entrare, cioè la parola d'ordine, un suono... Non la password, tu suona il campanello, fai tli e io non ti apro, di nuovo tli e io non ti apro. Ci sono, ci sono vari... Non te lo posso dire quante volte... Se non lo facciamo tutti, vediamo tutti. Io invatti, non posso. Vabbè, allora giochiamo al... Apro la porta o mi fingo morto. Suonano alla porta? Sì. Ed è selvaggio a Lucarelli. Apri o ti fingi morto? No, io apro, io voglio molto bene a selvaggio, siamo molto amici, mi piace che è una donna libera, una donna molto forte, molto coraggiosa e abbiamo qualche cosa in comune, che non abbiamo timore di dire quello che pensiamo. Naturalmente lei ha un modo diverso, diverso dal mio, ma quando dobbiamo giudicare io parlo. Poi lei è una donna che scrive molto bene, io non faccio giornalista, io faccio l'artista, però, sì, ci ha, ma certo apro, gli cucino anche, gli farò del brodino, non lo so. No, il brodino, la selvaggia no, è no, è abituata bene? No, 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 sicuramente un brodino fatto da me lo gusterebbe più che volentieri. Va bene, andiamo avanti. Suona alla porta Loretta Goggi, apri o ti fingi morto? Beh, con Loretta sto facendo questo percorso bellissimo, no, gli apro, a lei gli preparerei, a lei gli preparerei dei tortellini, dei tortellini, dei tortellini alla primavera, sono quelli, quelli tortellini cinesi, no, che sono buonissimi. Ok, suona la porta Giorgio Panariello, apri o ti fingi morto? Beh, no, ma come, ma amore, gli spalanco tutte e due le porte di casa mia, subito, immediatamente, grande compagno, gioioso, bellissima persona. Ciao Giorgio! Oltre adesso di un grande attore. Dopo la pubblicità, vi dirò chi c'è dietro la porta a suonare, sperando che Cristiano... Sì, io quella foto non la posso vedere, me la togliete per favore? È terribile quella foto lì. Sì, nel frattempo cambiamo la foto, dai. E come chiedete, Cristiano Malgioglio, io sono qua, qua, quella foto, la chi l'ha fatta quella foto? Via, via, via quella foto. Non l'avete presa? Oh! La ruota libera insieme a Cristiano Malgioglio, che ieri ha rilasciato una dichiarazione molto importante, ha detto che presto si sposerà, dopodiché qui, poco fa, ha detto se però Fiorello non dovesse venire al mio matrimonio, perché io lo vorrei come testimone di nozze, questo matrimonio allora non si farà. Quindi dipende tutto da te, Fiore, vedi che devi fare prima dell'Eurovision. Stavamo parlando di casa tua, cioè se un ospite inatteso ti bussasse alla porta, tu apri o ti fingi morto? Se fosse... Ma morto, amore, mi faccio le corne. Dai, fingi, ho detto fingi. Fammi vivere ancora. No, faccio finta di non sentire. C'è dallo spioncino. Ecco, non ce l'ho, non ce l'ho. Immaginati uno spioncino. Ok. E tu vedessi lei. Chi è questa? Valeria Marini. Apri o non sei in casa in quel momento? No. No, prima gli chiederessi se è andata a scuola di canto e poi se canta bene gli apro la porta oppure la lascio... non la faccio entrare. Se invece suonasse Alba Parietti. Beh, con Alba c'è un'alchimia pazzesca. Come del resto anche con Valeria Marini, due donne intelligenti, fantastiche. Mi trovo molto bene con loro, ma certo, aprirei anche a lei, aprirei anche a Valeria anche se non va a scuola di canto, va bene lo stesso. Valeria quanto canta? Se canta Madonna, si sente Madonna. Alba cosa deve cantare? Alba cosa deve cantare? Niente, Alba deve stare zitta e basta. Deve solo presentare perché è una bellissima donna, una donna molto intelligente, ma mi piace perché è molto intelligente perché poi, non lo so, gioca con lei stessa. E questa è una grandissima felicità ed è molto bella averla avuta tale quale. Per me era una gioia quando arrivava lei. Era il momento un po' più divertente. Sì, era divertente perché poi è una donna molto ironica. Poi sono contento che adesso ha trovato questa grande felicità con questo uomo che è di un bonazzo, però a me non me lo presenta, lo sai. Ma guarda un po'. E se invece dovesse suonare alla porta una persona che non c'è più, chi vorresti vedere dietro quella porta? La mia madre. La tua mamma. Sì. Visto che nella tua carriera tu, Cristiano, sei stato tante cose, sei tante cose, oggi sei veramente un grandissimo personaggio dello spettacolo, no? Molto anche televisivo perché ti sei lanciato anche in questa nuova avventura di conduttore, sei stato autore, hai partecipato a reality show, sei un cantante, oltre che un canto autore. Che mi hanno dato molto i reality. I reality bisogna saperli fare. Esatto. Se io penso al mio grande fratello che è stato un successo strepitoso, devo dire che mi ha dato tanto, mi ha dato tantissimo. E sei entrato così nel cuore di tantissime persone. Sì, in modo particolare nei giovani e mi ricordo anche la mia isola dei famosi con Simona Ventura. Lì ci hai sorpreso, devo dire la verità. Ecco, e lì devi stare molto bene, molto bene inquadrato. Poi sai, a lavorare con Alfonso Signorini è straordinario perché lui oltre ad essere un grande giornalista adesso abbiamo scoperto questo bravissimo presentatore. Simona già faceva, già la presentatrice. E lì non fai sconde a nessuno. Lì ti deve soltanto controllare perché basta una cosa di niente e ti puoi rovinare anche la carriera per tutta la vita. Infatti sei stato bravissimo e adesso andando in giro per strada chiunque insomma si chiede Cristiano Malgioglio chi è per te? E hanno risposto così. Ti vedono così. Malgioglio. Un tipo molto stravagante. Tutte quelle cose che si mette. Molto teatrale. Giornalista. Presentatore. E fa intrattenitore, cantante che ha fatto belle canzoni. Ha scritto per Giornata al cioccolato per Pupo. Lui ha scritto L'importante è il finire. Ah pure è questa, sì. Aspetta che la canto, ma poi. È un vero artista. Beh mi sembra un po' troppo suddigile. Un pochettino polemico. Adesso apprezzo di più da quando ho visto il suo programma. La mia casa è la tua casa. La persona è in gamba. Secondo me viene fuori la personalità e lo spessore della persona che ho un po' ritrovato nelle canzoni che ha scritto. Sei grande. Che carino che sono. Molto bello. Beh queste sono delle cose che mi fanno stare bene che mi aiutano sempre a continuare questo lavoro. A volte penso, dico ma perché non smetto e mi godo la vita. Ma riusciresti a stare lontano dal palcoscenico? Sì, riuscirei perché voglio prendermi e ho fatto tante cose molto importanti. magari da un momento all'altro posso lasciare la tv o non nemmeno ha detto che non lo posso fare. Ma noi vogliamo che Cristiano se ne vada dalla tv? Però quando io vedo per esempio quando vado a fare per esempio i miei spettacoli e vedo tutta questa gente ammassata che viene a guardarmi questi ragazzi giovanissimi che è come se vedessero che ne so un personaggio celebre un cantante celebre di questi giovani. Ma secondo te cos'è che piace di te? Ma forse piace il mio colore della mia vita forse mi vedono come un personaggio i giovani come un personaggio di Walt Disney non lo so mi vedono come un puffo mi vedono però le persone di una certa età certo mi conoscono di più per tutto quello che io ho scritto per quello che ho fatto che spero Dio mi dia la fortuna ancora di continuare a fare questo a scrivere bene ecco magari quando non voglia più di fare la televisione non sono quello che piange mi metterò a scrivere scriverò dei libri farò qualcosa sicuramente lo farò perché io sento della malinconia però cioè sento della malinconia sento quasi come un anticipo di nostalgia rispetto a una cosa che non è ancora successa no lo so ma tu mi hai fatto tu mi hai fatto una domanda le cose devono le cose devono accadere nella vita devono accadere nella vita e se accadono bene non me ne faccio non mi tormento non mi tormento attualmente grazie anche a Carlo Conti con tale quale show ho ripreso ho ripreso un momento mio particolare io fra l'altro ci tenevo a dirti una cosa molto bella che mi piace ripeterla io quando sono venuto qua da te e tu mi hai fatto la sorpresa del professore Mercuri che è questo questo luminare di dermatologia io ho ricevuto non puoi immaginare quanti mail di tante ragazze di tante persone Cristiano grazie a te io io mi sono salvata grazie a te sono sono perché il professore è lo stesso che ti aveva trovato il neo che poi ti operò in questa polavica se non avessi incontrato lui io l'avessi trascurato dovevo partire in Brasile come ti dicevo per la promozione del disco mi sono innamorato di tuo marito e quando lui mi ha visto eccetera bisogna operarsi subito Cristiano quindi tu vivi la vita un po' come un giro di ruota come dei momenti di fatalità da quel momento quando mi ha detto che potevo avere cinque mesi di vita sono 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 impazzito sono impazzito mi facevo al mattino la barba e incominciavo a piangere così quando sento per esempio questi dolori io grazie a Dio non ho fatto chemio non ho fatto niente sono cinque anni ormai è passato tutto per esempio mi sono rimasto sconvolto della morte per esempio di Vialli non lo conoscevo bene l'avevo visto una o due volte sempre stupendo molto carino quella foto di quell'abbraccio mi ha completamente seccato la gola e lì ho pianto io non bianco quasi mai bianco per i dolori delle persone che se ne vanno via ma stiamo dando un messaggio importante quello anche della prevenzione e di godersi la vita per come si presenta che è molto importante però a volte a volte purtroppo non c'è niente non c'è niente da fare arrivi in ritardo eccetera ma tu sei arrivato in tempo grazie a Carlo Conti ma anche al tuo espro alla tua voglia di vivere è tornato assoluto protagonista io a volte sono sono malinconico per questo però poi c'è una forma mia di follia che io la trovo che io la trovo meravigliosa poi questi abiti e che vediamo anche con questo filmato per l'appunto tutti i look di Cristiano Malgioglio ti volevo dire anche il nome dello stilista si chiama no me lo dici dopo il filmato un po' di suspense quello per me guardiamoci questi abiti clamorosi e poi svegliamo Cristiano Malgioglio perché sei vestito così? perché stasera mi sento una vedova nera finalmente con questa bocca stasera posso dire tutto quello che voglio Befano ecco la Befana se tu sapessi sono tutta un prurito bellissimi uno più bello dell'altro si che per l'altro è uno stilista che porta lo stesso nome di una persona che noi conosciamo Fabio Ancillotti e lui ha lavorato molto lui ha lavorato molto a Parigi a Parigi lui si ispira molto a questi tessuti o a queste idee dei grandi stilisti giapponesi tipo Yamamoto Kansai Kansai Yamamoto va bene lo stesso e costruisce tutte queste cose su di me ma questi abiti poi no? le collezioni dove li metti no perché amore mio se tu vieni a casa mia e apri l'armadio mi si butta tutto addosso e ma ormai sono entrati nella storia della televisione italiana sicuramente sicuramente non mi piacerebbe fare un'asta e darla in beneficenza a qualcosa qualcosa di qualcosa di importante bello 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 molto bello è successa una cosa molto molto carina proprio ieri sera a tali e quali perché tu a un certo punto hai cantato insieme a Cristina D'Avena allora dato che è molto difficile uscire dai propri panni alle volte proviamo a metterci nei panni degli altri abbiamo creato un po' questo gioco non ti piacerà come immagine non ti piacerà ma prendila come un gioco se tu dovessi vestire i panni di Harry sai che Harry è uscito adesso con questa clamorosa professione piace molto anche a me anche se ha fatto degli scivoloni se tu fossi Harry ecco scriveresti mai un libro per vendicarti di qualcosa guarda ti dico la verità mi hanno chiesto in tanti ma veramente in tanti di scrivere un libro sulla mia vita per tutte le persone che conosco ma siccome io sono una persona io non traderei mai un amico anche se fosse un mio amico non lo farei mai prima di tutto per pudore e poi perché non è neanche carino anche per le persone che non ci sono più molto celebre ricordati che la mia amica Maria Schneider più conosciuta per aver lavorato con Marlon Brando in ultimo tanque a Parigi gli avevano offerto tanti di quei soldi per fare un libro per parlare di Marlon e lei sapeva vita e miracoli e lei ha detto non lo farò mai Ursula Andres che ha conosciuto gli uomini più belli del mondo è stata per esempio la mitica la mitica come si dice adesso non so quel che ha fatto naturalmente il 007 lei che gli avevo chiesto dice io ma neanche per tutto loro del mondo io amo queste persone che non raccontano la vita degli altri il privato degli altri se tu mi racconti una cosa io non sono uno se è una cosa semplice così la darò a tutti state tranquilla perché non mi fermo non mi fermo ma è una cosa importante però se ci sono delle cose importanti assolutamente perché la gente vuole sapere il gossip il pettegolezzo eccetera io non scriverò mai niente di me perfetto vanno pure su mamma mia tu una volta dichiarato rendendo virale anche questa dichiarazione che vorresti fare la regina e basta quindi noi ti abbiamo messo nei panni di Camilla Parkerbo l'attuale regina consorte in cosa ti senti regina? ma sono più bella io vista così non posso essere una regina perché a me mi piace fare tante cose capito? non devo seguire non devo seguire una linea un protocollo è solo il tuo protocollo personale allora andiamo al prossimo perché su questo secondo me è qualcosa da dire Gianni Amman a te non piace più di tanto? no non piace non piace no che non mi piace perché abbiamo fatto un viaggio insieme da Roma Istanbul sì ragazzo alto ma se vai in Turchia ci sono dei ragazzi di una bellezza da perdere la testa perciò non è niente di che no ma no che non mi piace perché non mi interessa ma se tu invece avessi avuto quel fisico quella prestanza fisica come avresti giocato le tue carte per la conquista di un nuovo amore? se avessi avuto le prestanze di amore non mi cambierei neanche per tutto l'oro del mondo ma tu sei impazzita figlia mia preferisco rimanere così come sono preferisco rimanere così come sono prossima immagine prossima immagine il volo che abbiamo immaginato nei panni di questi tre ragazzi che girano il mondo non si fermano mai e sono sempre insieme tu riusciresti a condividere la tua individualità ma guarda ti spiego subito questi ragazzi hanno un successo che è qualcosa di straordinario possono montarsi la testa quando vogliono però sono talmente semplici sono rimasti i ragazzi i ragazzi che vivevano in questi piccoli in questi piccoli paesi così sono genuini il successo non li ha mondati io li amo davvero per stare insieme per cantare insieme a loro se facessi parte del gruppo per essere ma beh naturalmente non appena io avrei fatto il concerto me ne sei andato per i fatti miei vedi allora ti faccio un'altra domanda il rapporto che hai con la solitudine te la vai a cercare ogni tanto no ma sempre così quando io sono triste sono abituato che indosso un abito di mia madre l'ho sempre detto l'unico 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 vestito che ho è una vestaglia bellissima che mia madre indossava sempre me la stringo sul petto metto un disco di Celia Cruz o metto un disco di Carmen Miranda e ballo davanti allo specchio dopo due minuti sono sono l'uomo più felice del mondo è come se avessi mia madre vicino a me perciò io scaccio la solitudine io non sono un uomo che conosce la solitudine la malinconia no non sono questo io forse anche per questo io voglio essere l'allegria certo ho avuto dei momenti miei così come ti raccontavo prima ma quello è normale e poi ho amici tantissimi nel mondo dello spettacolo tanti tanti che mi vogliono bene prima abbiamo nominato però anche il pubblico ti vuole bene e pensa che io con Mara il mio rapporto con Mara è un rapporto straordinario ma sai perché? perché perché io la considero come se fosse mia sorella è quella che sa sempre tutto di me io quando ho avuto il mio problema non ho chiamato mia sorella per raccontargli alle miei nipoti ho chiamato subito Mara non lo so c'è questo bellissimo litighiamo sempre questo però è molto bello gli amici litighano anche ma litighiamo per cose stupide ma è bello però ci amiamo poi tanto poi ritorniamo e diventiamo più amanti di prima è bello questa cosa che io poi adoro ma tanta gente nel mondo dello spettacolo ascolta forse anche per questo che tu piaci tanto noi prima dicevi io piaccio anche ai ragazzi e ai bambini forse perché mi vedono come un pupazzo non ti vedono proprio come un pupazzo però abbiamo chiesto anche a loro cosa pensi di Cristiano Maggioli ah anche ragazzi perché prima vedevo e hanno risposto così guardiamo il filmato Cristiano Maggioli 45 anni secondo me ho 50 o 49 anni secondo me ha tra i 50 e i 60 anni è nata a Milano in Sicilia secondo me fa il modello per come è vestito è tipo uno stilista si veste molto bene perché anche il trucco molto preciso Cristiano ma tu ma perché ti vesti così? fa il giudice di tale e quale fa delle canzoni canta e scrive i tasti per i cantanti e per lui mi sono innamorato di tuo marito mi sta simpatico perché è strano Cristiano del mio personaggio preferito è bello che vengono per farsi selfie con me e questa è una grande gioia su cui sono tutti i miei tutti i miei nipotini li chiamo i miei nipotini ed è bello questo ma se loro ti vedono come un po' pazzo non potevamo lasciarti andare a mani vuote no mi vedono come che ne so come ti dicevo prima come un personaggio di Warbird della fantasia ecco mi vedono come un bambalotto un bambalotto un bambalotto apriamo la ruota pensano pensano c'è un regalo con te c'è un regalo per me certo che vengo contento abbiamo pensato di farti un regalo che bello bello perché dovete sapere che Cristiano è finito anche nel presepe napoletano è diventato il più venduto diciamolo pure così voglio essere un pochettino egocentrico ecco e allora noi ti vogliamo ecco omaggiare di questa statuina ma ti ringrazio beh sono tremendo orrendo qua amore mio ma perché non mi fate come Barbie scusa dobbiamo chiamare una Barbie ma ce ne sono ce ne sono di belli ma comunque questo è bellissimo questo lo terò proprio è un prodotto artigianale sì ma molto bello scusatemi se prima ho detto che ero orrendo ma io a volte sei molto critico con te stesso sì perché io mi amo mi amo poco non mi amo tanto io sai quanto mi amo quando sono in scena quando posso cantare i brani che mi piacciono e allora io mi vedo ma in televisione non mi rivedo non mi rivedo non mi rivedo mai a volte sì infatti in mia casa e in tua casa mi vedevo per vedere i miei difetti sai cosa ti dico Cristiano che io sono innamorata della tua fragilità è la cosa più bella di te grazie grazie di essere venuta a trovarmi ciao Cri ciao Cri